Nome? Michele. Cognome? Gualtier. Ragione sociale? Attaccante. Nome? Michele. Cognome? Mangino. Ragione sociale? Gualtier. Cosa pensi del presidente? Penso che comunque sia una brava persona e penso che tutti quanti dovrebbero pensare questo perché comunque si è già dato l'opportunità di giocare in un campionato anche a persone che non hanno mai fatto un'esperienza calcistica come me. Cosa pensi del presidente? È una persona molto socievole e molto brava. Cosa pensi del mister? Il mister è anche lui come bisogna una bravissima persona e all'inizio forse pensavo che non avrebbe avuto l'esperienza necessaria per gestire una squadra di calcio essendo anche lui ha la prima esperienza però alla fine ho visto che comunque si può gestire una squadra di calcio nel migliore dei molti. Cosa pensi del mister? Il mister è un ottimo mister, ci dà la carica e dobbiamo seguire il suo lavoro. che ci fa tutti i giorni, allenamento e va bene così. Il giocatore che ti ha impressionato di più? Angelo Montano. Il giocatore che ti ha impressionato di più? Come l'ho visto a fine ora in campionato secondo me per me è Antonio Lu. La vittoria è più bella? La vittoria per 5 a 0 con il Campo Maggio. La vittoria è più bella? Quella con il Campo Maggio. La partita più brutta? L'ultima partita che abbiamo giocato il 7 a 3 con il Priens. La partita più brutta? Io penso che la partita di ieri è stata un po' disastrosa, diciamoci la verità. Come pensi siano state le tue prestazioni? Le mie prestazioni? Alcune buone, alcune meno buone, però l'importante è metterci sempre l'impegno necessario per il bene all'asqua. Come pensi di aver giocato? Io penso di aver fatto una partita, di aver fatto il massimo che aveva le mie possibilità e sono rimasto in battito. Ti senti importante nella squadra? Ma basta. L'obiettivo stagionale secondo te della squadra? Noi cercheremo di fare il nostro massimo per arrivare il più alto possibile. Quali sono gli obiettivi della squadra secondo te? Cercare di vincere tutte le partite. Ti senti importante in questa società? Io penso di sì, perché do i contributi che devo dare durante la settimana e anche durante la domenica, anche se gioco o non gioco. Chi ringrazieresti? Farei un ringraziamento particolare al mio caro amico, ovvero Rocco La Bella, che mi ha suggerito appunto di partecipare, di far parte di questa squadra, di questa società. Fai dei ringraziamenti. Ringraziamenti faccio al mister, al presidente e a tutta la squadra e ai suoi dirigenti. Grazie a tutti.